Buonasera a tutti, benvenuti alla 29esima sessione di Bootcamp Grazie per esservi presentati Allora, prima di tutto, essendo che io e Darwin siamo tornati oggi praticamente circa 3-4 ore fa Abbiamo un bel po' di informazioni da dovervi dare, che arrivano direttamente dal comando centrale Allora, tutti voi saprete, siamo appena tornati dalla lunga marcia Abbiamo visto cosa è che è successo alla 19esima E ovviamente l'SJC e l'SJCF non saranno fermi, non stanno fermi Non si può nemmeno pensare che non ci sarà un'azione a riguardo In realtà, vi posso già dire concretamente che abbiamo degli ordini a riguardo Non avrei mai pensato di dovervelo dire, ma è stato istituito l'ordine generale 1 Che indica la guerra totale In questo momento tutti i canali diplomatici, verso la RU Già prima venivano ignorati, adesso sono stati chiusi Quindi il tempo della diplomazia è assolutamente finito Nel mentre che parliamo, circa metà delle flotte variano dalla nona fino alla ventunesima circa Si stanno muovendo per raggiungere quelli che si pensa e si presume saranno i settori di frontiera O comunemente il fronte Stiamo parlando di un dislocamento di navi enorme Purtroppo non riesco a quantificare perché non ho i dati di ogni flotta davanti Ma stiamo parlando di una guerra totale nel pieno senso della parola Ci dobbiamo aspettare grandi perdite da entrambi i fronti E purtroppo, in realtà sapevamo che sarebbe toccato anche a noi Appunto siamo stati chiamati anche noi A differenza però delle altre flotte, noi non siamo una flotta primaria Questo significa che non raggiungiamo un livello minimo di navi per poter essere considerate tali Questo però è in base a una classificazione interna dell'SJC Cioè la RU ci considera probabilmente tanto nemici quanto considera la prima flotta terrestre E non si faranno problemi a sparare ad una flotta secondaria Tuttavia questo status che ci è stato affidato dall'SJC Ci dà la possibilità di prepararci E ci dà un set diverso di missioni che dovremmo poi intraprendere e portare a termine Si spera Allora, prima di tutto non entreremo in battaglia sin da subito Come le altre flotte In questo momento le flotte si stanno solo muovendo Quindi che io sappia non ci sono grandi conflitti in atto Ma ce ne saranno È da aspettarsi che ce ne siano E molto probabilmente ce ne saranno nel breve termine Appunto noi non entreremo subito in battaglia Ma avremo circa tre settimane per preparare il resto della nostra flotta e degli equipaggi Tutti voi avete ottenuto i documenti in questo periodo E quindi sapete che ci sono state fornite delle nuove navi Almeno la commissione di queste navi è andata a buon fine Adesso, con il permesso di tutti Mi munisco un attimo dell'avviso Che riguarda appunto questo aggiornamento La nostra flotta Che attualmente conta L'incrociatore pesante classe Endurance L'incrociatore pesante classe Voyager E la corvetta leggera classe Radetzky Verrà espansa per raggiungere cinque navi maggiori Le due navi maggiori Con relativi equipaggi che verranno poi formati Sono Un incrociatore medio Classe Feng Wang E una nave di supporto pesante Classe Horitetsu Vi annunciamo che A seguito delle nuove disposizioni dell'ammiragliato Degli ordini di costruzione in vista dell'imminente guerra Entrano in vigore con effetto immediato Le seguenti disposizioni e trasferimenti Partiamo con le disposizioni Sono annullate Tutte eventuali rotazioni interne di equipaggi E' ricostituita la componentistica navale Con tutti i suoi membri sotto il comando del tenente Maxen Viene sciolto l'attuale equipaggio della Radetzky Sotto il comando del capitano Niel Viene ufficialmente costituito l'equipaggio della nave di supporto pesante Classe Horitetsu Viene ufficialmente costituito l'equipaggio dell'incrociatore medio Classe Feng Wang Viene ufficialmente costituito il nuovo equipaggio della corvetta leggera classe Radetzky Sotto il comando del facente funzione di capitano Viper Passiamo ai trasferimenti Il marinaio di prima classe Gatto Galattico passa alla componentistica navale L'equipaggio della Feng Wang sarà costituito da Capitano Niel Sotto ufficiale di prima classe Marangon Marinaio scelto De Carabia Marinaio scelto Red Dragon Marinaio Ticcio Marinaio Frank Equipaggio Horitetsu Tenente Maxen In qualità di facente funzione di capitano Marinaio di prima classe Gatto Galattico E eventuali membri della componentistica navale L'equipaggio Radetzky invece Sarà affidato al facente funzione di capitano Viper Al marinaio scelto Lieron Marinaio Slidets E recluta Brigantes Per quanto riguarda invece la Voyager I trasferimenti sono il marinaio di prima classe Morris E il marinaio di prima classe Panda E questo è tutto Ci aspettano tre settimane di pura costruzione Missioni di logistica Raccolta di materiali Ma non possiamo sforare Non appena avremmo terminato Tutti gli equipaggi dovranno funzionare Già al 100% Non c'è margine di errore Per quanto le nostre missioni saranno marginali Dovranno essere portate a termine In maniera estremamente precisa Perché anche le nostre azioni Varranno in termini di guerra E non è detto che non vedremo la nostra parte di battaglia Devo essere sincero ragazzi Stiamo davanti ad un punto di svolta Di nuovo Le navi che vi ho detto prima Non saranno le uniche che vedremo Avete visto tutti i dettagli Ci saranno anche due navi minori Che verranno costituite Che poi verranno date alla componentistica navale Ma quelle hanno una priorità secondaria E le affronteremo quando sarà tempo Cercate di collaborare anche quando non siamo in missione Perché quando poi saremo in missione Non potremo sbagliare Penso che questo sia tutto Da parte del comando c'è qualcos'altro da aggiungere? Nuno da aggiungere Benissimo Allora prima di partire al lavoro Voglio fare i complimenti appunto Ai nuovi equipaggi costituiti E soprattutto Al facente funzione di capitano Maxen E al facente funzione di capitano Viper Che sono stati promossi Visto la futura Visto il futuro di spiegamento Complimenti ragazzi Speriamo di vedervi sempre Al massimo delle vostre capacità Voi e i vostri equipaggi Congratulazioni Congratulazioni Mi ricordo Che un bel po' di roba c'era da fare Secondo me Prima cosa sono i trasportatori Ai Che si chiamano Ai elettori di backup Poi le varie batterie Che si sono danneggiate Allora io qua davanti Ho Ho la lista dei blocchi che vedo danneggiati Batteria 37 Cioè ve li posso mettere tutti se volete Su schermo Vabbè ragazzi potete anche già iniziare ad andare fuori eh Iniziare a lavorare Lo farei volentieri Non funziona di nuovo? No 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 Cioè prendo pugni Le pareti Allora inventario Elite Ci sono Una smerigliatrice Un saldatore elite Nel Lc di controllo Sistemi plancia 4 Quindi controllo Sistemi plancia 4 Che sono di Fabrizio Sta rallentando Siamo arrivati 10 km Allora una delle portasiluri frontali è ancora da finire Poi HP di CFR DX SX Va bene io inizio ad uscire Mi serve comunque un Qualcuno dalla plancia che mi coordini per Per le riparazioni praticamente Quindi Va bene al momento ci sei te Dammi una mano allora Mi devi coordinare Ok Guarda dalla diagnostica E dimmi un po' Cosa le devo comunicare? Allora un po' di cose ce le ho già su schermo io Quindi mi va anche bene così Ok Toglimi perfora la corner light set dallo schermo Perché l'ho L'ho riparata Ok Vedo anche il propulsore a ioni Ok Grande propulsore a idrogeno Ok Toglimi il large hydrogen thruster per favore Lo puoi rimuovere Anche qua sono Il numero? 3 Allora io purtroppo ho dovuto rimuovere un giroscopio ragazzi Per arrivare alla batteria 37 Che per lo più è pure quella sbagliata Quindi è quella dall'altra parte Adesso mi servirebbe il proiettore per le riparazioni Scusate Ok Lo abilito subito Ok ragazzi Ehm Coordinatevi con xplayer Per quanto riguarda la Il controllo appunto per eventuali danni Io adesso sto controllando i reattori di backup Che però sembrano essere tutti sistemati da questa parte Non riesco a capire Vanno a controllare gli altri intanto Poi ragazzi oggi ci occupiamo anche della riverniciatura Quello è un po' più semplice perché basta smerigliare il blocco e risaldarlo È un lavoraccio quello della verniciatura Devo essere sincero Mi dispiace che dobbiamo farcelo Staccato un giroscopio Ah fuck Sì Eh mi confermo Che la batteria 37 è stata riparata Eh sì te lo confermo te lo confermo Puoi toglierle entrambe dal Già fatto Ma la diagnostica me la insegna ancora danneggiata Secondo me c'è un problema Scrive Eh Ricompila la diagnostica È impossibile Le ho appena Ma scusa Le ho letteralmente appena sistemate Eh guarda ora Controllo Ok si sta Reviando Sì Booting up Ok sì Perfetto Sistemata? Benissimo Poi dalla prossima sessione dobbiamo iniziare a parlare un attimo di protocolli interni Ragazzi Perché così stiamo andando all'aspero in dio E non c'è una cosa che mi dà più fastidio Allora C'è arrivato il carico dalla base? No Ok Dobbiamo mettere un po' di pressione per fare sto cazzo di carico Se no noi non possiamo andare da nessuna parte Se non ti risponde Allora fammelo sapere Perché glielo dico io Maxen Maxen Ma stai ignorando le richieste dell'endurance? Sì Ok ma mi serve un carico Se no io qua sono bloccato Ok E il problema è che abbiamo poco materiale Sto cercando di produrlo e farlo Non so La endurance mi ha chiesto una quantità Ah Voi No aspetta Aspetta un po' di controllare voi Dov'è il vostro carico? Te l'hanno mandato in In chat Chat RP? Eh sì È lì che vanno mandati i bollettini Ecco Sì Caricolendo Sì ok sì Stiamo facendo Anche se ci mandi soltanto i Cazzo nel so I materiali Poi ce li facciamo Le munizioni non possono riesca a farle Non mi interessano le munizioni Tranquillo Dai priorità Piuttosto anche solo ai lingotti Poi produciamo noi a bordo Ok perfetto Ok Allora Gli ho detto di dare priorità Piuttosto ai lingotti Perché sono Ovviamente sono strapieni di lavoro da fare Tra la loro produzione interna E le altre navi Che hanno bisogno di rifornimenti Quindi Dovrebbero mandarci comunque una nave Se no ragazzi Ci tocca andare ad assaltare Qualcuna di queste navi Che L'IFF Rileva come nemiche Va bene Sono d'accordo Non so per sé ma sono d'accordo Eh Non sappiamo Non sappiamo se possiamo farlo In realtà Non c'è un problema Con motore Se no se lo metto a posto Chi è che c'era? Siamo in venti Siamo in ventisei Le tasche di stasera Dovevano già essere finite Non abbiamo ancora iniziato un cazzo Cioè Non capisco Cerchiamo di realizzare Se riusciamo ancora In quest'ultima Eh va bene In quest'ultima tangente Intanto faccio attraccare l'equipaggio Qualcuno risponde alla comunicazione radio subito Così Entriamo subito in Charlie Ok Va bene ok Vado subito A tra poco Vai blocca Siamo Blocca A posto Ci sei Perfetto ragazzi Ok Ok Abbiamo parecchia pietra Fabrizio Te sei in plancia Giusto? Io sì Ok Tieni sotto controllo Poi la pietra Quanto velocemente viene Lavorata Va bene? Va bene Nessun problema Grazie E ogni tanto Dacci un check Per i materiali Oh Perfetto Ragazzi Ci siamo Dai Alle 11 Eh Lo so Lo so Beh guarda Tanto adesso è tutto in posizione Quindi penso tu possa costruire Perfetto Bene Anche se poi in realtà questa parte dovrà essere Smantellata per le modifiche interne Quindi c'è Sto riparando qualcosa che dovrà essere smantellato Ehm Che bello Mettiamola così No Quella zona lì in particolare no Non dovrà essere smantellata Tranquillo Però Buona parte della zona posteriore Riceverà un overhaul Fabrizio Scrivi pure che È normale Siamo in fase di riparazione estensiva Ma uranio ne ha portato domanda L'uranio si 20k è stato portato Ma non fate ancora rifiuti Sta saltando Cos'è che sta saltando L'endurance Aspetta 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 Ciao ragazzi Ah no Sono anch'io qua Quanto lontani siete saltati? Ciao Oh Questo Questo è morto Chi è questo? È CX Ho salvato le CX Ho salvato le CX Ho senza energia Spengo la luce Allora Rientriamo un attimo In In base Ok Ok Anche velocemente in realtà Perché io ho solo il 22% D'energia Io ho il 33% Allora Mi è saltata la nave Per qualche ragione Quindi non so dove sia Però ho recuperato Anche un morto E DNA Quindi la situazione Dovrebbe essere comunque Nominale Utilizzeremo un attimo Le antenne della base Per mandare un messaggio A lungo raggio E dire all'endurance Di tornare qua Cazzo L'ho preso un attimo Sul personale Eccoti Allora Tieni Questa qua è la tua matrice genetica Questa è la tua bombola Saldatrice Smerigliatrice E tutto il resto E tutto il resto Erano materiali Eh lo so ragazzi Dobbiamo aspettare un attimo Che tornino Sinceramente Cioè che torni Fabrizio Perché alla fine è solo lui Ah è da solo? Sì sì Non l'avete sentito Prima che saltava? La nave sta saltando Cazzo Scomparso Eh il fatto è che ha detto Ho spento tutto Eh vabbè Siamo in un settore tranquillo Comunque Ma sta come tornare indietro Così Ma sì Il ragazzo è addestrato Il sotto ufficiale di prima classe Ma cosa è sta zona? Ah micchia Sta zona è la oritetsu Orca troia Aspetta Cosa è sta zona? Dove? Eh c'è un'intera zona Che sta venendo saldata E' stata la ori Eccola qua Oh La signorina Fabrizio Sì Sto rientrando Sono a 15 km Ok No arriviamo noi da te Non ti preoccupare Cresciatore pesante Classe Oh ho visto Eh dna Vieni con me Vieni con me Dove sapere Quante Quante batterie Sono in totale Vi faccio avvicinare Poi io devo Staccare Va bene Ah faccero Allora Io Continuo Finchè non finiamo Cioè finchè non viene dichiarata la fine Vabbè dai Eh direi che è tempo di finirla qua Ormai Abbiamo fatto Tutto ciò che dovevamo fare Roger Va bene Buonanotte Buonanotte Siccome che siamo in missione Da tanto tempo Allora quello in alto A destra lì È per mettere la foto Di famiglia Se tu ti senti Lì ci metti una foto La PC E così Tu quando sei triste La guardi Dici Prima o poi tornerò È il radar Porco Perché la lidar è rotta Grazie a tutti